In un mare di gente, a volte infame o intelligente, nessun porto nella mente, anarchia e lotta indipendente. In un mare di gente, a volte infame o intelligente, nessun porto nella mente, anarchia e lotta indipendente. Ora lasciami stare, sono stanco di viaggiare, tiro i remi in barca, alla deriva voglio andare. Lasciatemi stare, sono stanco di vagare, tirando i remi in barca, alla deriva nafragare. Testimone del presente, sono il bambino più sorridente, bianco sporco nella mente, con un pensiero stupefacente, bene foto della gente, musica e palla, continuamente, orremato, controcorrente, sempre pirata, indiverente. Ora lasciami stare, sono stanco di ascoltare, tiro i remi in barca, alla deriva voglio andare. Lasciatemi stare, sono stanco di vagare, tirando i remi in barca, alla deriva nafragare. In un mare di niente, tutti i fantasmi sono nella mente, col cervello che grida assente, la paura è desistente. In un mare di gente, un galeone controcorrente, nessun porto nella mente, anarchia e rosa indipendente. Ora lasciami stare, sono stanco di viaggiare, tiro i remi in barca, alla deriva voglio andare. Lasciatemi stare, sono stanco di vagare, tirando i remi in barca, alla deriva. E ora lasciami stare, sono stanco di suonare, tiro i remi in barca, alla deriva voglio andare. Lasciatemi stare, lasciatemi stare, sono stanco di cantare, tirando i remi in barca, alla deriva nafragare. E a chi è dedicata? Cos'è? Ciurmanemica. Ciurmanemica dedicata a Gabriele, tante parole non servono nemmeno. Per il testo di c'è abbastanza. Gabriele Ferreira. Bene. Al secolo. Va bene, va bene amici, dai ci aggiorniamo per domenica. Hai visto più per caso il giro? Ciao.